Risorse esigue dal Comune le menze scolastiche in città, relegate agli ultimi posti, l'indagine di ANAC. Il servizio di menza nelle scuole siracusane è considerato deficitario. Lo riporta la statistica foodinsider.it che colloca Siracusa al penultimo posto tra le 53 città prese in esame a dicembre del 2022. Anche quello di Save the Children nell'ambito del rapporto non è mensa per tutti, non sarebbe rispettato al modello europeo del tempo pieno a scuola. L'importo che l'amministrazione comunale investa per il servizio di menza scolastica è pari a 700.000 euro. Un importo che di per sé è già inferiore a quanto necessario per coprire l'intero anno scolastico, tant'è che il servizio non comincia con l'inizio dell'anno scolastico. L'amministrazione comunale con una determina dirigenziale ha avviato una procedura di gara aperta per il servizio di rifezione scolastica per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Il servizio, spiega Michele Mangiafico, prevedeva un impegno di spesa di 1.089.000 euro circa all'anno, poi la determina è stata ritirata in autotela per conformarsi a un parere dell'ANEC. L'ANEC con un'alta determina è stata indetta una procedura negoziata per un servizio di soli 82 giorni con previsione di proroga tecnica dal 1.08 al 9 febbraio 2024 per la cifra che in realtà è quella realmente disponibile in bilancio, 651.000 euro. L'ANEC ha bacchettato l'amministrazione comunale di Siracusa che pretendeva di offrire il pasta ai bimbi a un costo di 4,40 euro che l'ANEC ha giudicato di molto inferiore al criterio ambientale minimo che è dichiarato di essere oggi dei 5,50. Oggi l'amministrazione comunale di Siracusa tra infanzia, primaria e media serve con la mensa scolastica circa il 15% della popolazione, un dato molto basso sebbene ci siano punte che dichiarino significativamente positive come l'istituto comprensivo Raiti che serve con l'investimento del comune il 24,4% della popolazione scolastica e arriva in maniera autonoma a servire con la mensa scolastica il 42,6% della popolazione dell'istituto. Conclude il leader del Movimento Civico 4. Gli studi del settore mettono in cattiva luce la gestione dell'amministrazione comunale di Siracusa anche dal punto di vista della qualità del cibo che, a contrario di quanto accade nelle città più virtuose del nostro paese, arriva da diverse decine di chilometri e precotto.